Sono il signor Di Bello Erasmo, gestore di questo esercizio commerciale. Un mese e mezzo gestiamo questa macchinetta nominata Mangiavetro in seguito all'iniziativa del municipio Roma 3. Il tentativo è quello di aver inserito una macchina di travetro all'interno di una piazza. Fino ad oggi questa macchina veniva usata in ambienti chiusi e in mia sperimentale si vuole tentare di portarla negli ambienti aperti tipo le piazze dove sono molto movimentate. Sta avendo un successo abbastanza secondo me interessante, se non altro come idea. L'unico inconveniente è che ci troviamo in periodo sostanzialmente invernale quindi i consumi di bibite non se ne fanno molto in questo periodo però è da sperimentarla nei mesi estivi per verificare la reale capacità di intervento. basti pensare che l'immolocro interno riesce a contenere 350 bottiglie tritate. La macchina funziona in questo modo, si inserisce la bottiglia nell'apposito sportello, la macchina interviene triturando il vetro. Per aver terminato il percorso di aver finito il tritamento della bottiglia aspettare un attimo esce uno scontrino che dà la possibilità di uno sconto al locale di più del 20% sia sul cornetto che con il tramezzino.